Uè amore, io scappo che sono ritardissimo e ci pazziate al nano? Oggi non a scuola perché c'è assemblea generale. Io ho il parrucchiere, poi il pranzo con le amiche, il pilates, il messaggio, shopping, spa... Ma come non a scuola, figa? È un appuntamento, sono anche in ritardo! Addio! Nano, allora oggi scuola di vita. Cioè? Ti insegno come attraversare Milano in meno di mezz'ora e cross the city in meno di Yafenaua. Il chi va piano non è di Milano, tu devi andare dritto alla meta il cliente, tac tac e arrivi. Scusi, per via Sarpi per favore? Primo, a Milano non esiste via Sarpi, esiste Paolo Sarpi. Il secondo, figa, dagli anni 80 che non sentivo uno chiedere indicazioni. Ma non c'è nel mappe sullo smartphone? Ho il 3G ma non funziona. Eh, il 3G. Porta col cellulare al museo, compri uno nuovo con i 4G almeno, no? Bravo, lo porta al museo sotto una teca con scritto Homo giorgensus, quel cazzo che vuoi. Andiamo, che fermarsi è contagioso. Dai, diamo, diamo, dai, andiamo, andiamo, dai figlio. Adesso prima di andare al cliente facciamo un pit stop e prendiamo un po' di cash perché arrivare col cash fa sempre figo. Tesoro sono qui al banco Matt, tu ricordi il pin che io ho dimenticato, dovevo prelevare, far l'estratto conto. Ma come l'estratto conto? Dai figa, ma scarica l'app, no? Perché devi rompere il cazzo e stare in coda? Dai. Non è l'app, è internet 3G che non funziona. Non è ancora, è 4G. Ma un uomo senza 4G come Milano senza Circo Valle, come il Duomo senza Madonnina e come te senza tuo fratello. Due coglioni da soli in mezzo alla strada. Andiamo. Dai, su, muoviti, dai, su. Sei in connessione lenta? Dai, poi. Guarda che bel culo. Ah no, scusa, c'è un bambino. E questo che fa? Ehi, sì, e poi dai, allora muoviti. Dove sei? Dove sei? Ma eri qui? Dove cazzo sei? Fermi, fermi! Che c'è un Pokémon, lo devo catturare, cavolo. No, 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 sto cazzo di 3G. Preso. Piccolo bastardo. Bravo. Sino è pieta, senza pietà. Cambialo a quel rottame! C***o. Pestano il caccio. C***o di Serroisenia? C***o di Coi. C***o di figa. Dai, dai dai dai. Dai, 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 Large. Dai, dai dai, dai dai, dai dai, dai dai su dai dai, dai dai, dai 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 dai, dai 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 dai, enjoy. It's in 30 Isca, shisha, shisha, shisha. Den, 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 den. Figlio! Second lesson Il business è un mondo crudele E se tu arrivi in ritardo, perdi il cliente Ma quando perdi un cliente, devi già pensare a quello dopo Figa, e siamo in ritardo anche per quello dopo Diamo Mi spiace papà, però avevi ragione Oggi ho imparato qualcosa Che cosa? Che è impossibile attraversare Milano in meno di mezz'ora Ma dov'è che sia, i miei fallimenti saranno i tuoi successi Let's go! Grazie